Eccoci qui! Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti! Salve, 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 salve! Mi sentite? Mi sentite, mi sentite, mi sentite? Ok, allora, innanzitutto vi do il benvenuto a questo terzo appuntamento dedicato al mondo dell'advertising Un appuntamento molto particolare, poiché ho deciso, ragionandoci un po', soprattutto dopo il webinar di ieri Di dare una bella virata a questa serie di webinar e, parlando di advertising, di farvi una piccola sorpresina Che spero poi vi piacerà L'ultima volta che ci siamo sentiti rispetto a questo tema Avevamo iniziato a introdurre il tema dell'advertising sotto l'aspetto pratico-realizzativo Ed è per questo che mi è venuto in mente di sviluppare comunque una sorpresina Che in qualche modo, in anteprima, vedete all'interno della cover di questo webinar E tra poco ne parleremo Prima vedremo, innanzitutto comunque aggiungerò qualche cosina rispetto ai temi trattati la volta scorsa Dopodiché ci dedicheremo a questo progetto e inizieremo con una cosetta che adesso poi vi andrò a spiegare Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo Se siete al primo webinar che potete utilizzare la chat a sinistra per interagire con me e tra di voi E che soprattutto che fa un caldo bestia Quindi se mi sentite leggermente spompato è dovuto al caldo E poi vi ricordo anche che alcuni link dedicati a questa sera li ho già messi all'interno della community Google Plus E ho appena finito di caricare anche i link di ieri sera Che poi ieri sera sono crollato, sfatto, quindi non ho fatto in tempo Se qualcuno ha qualcosa da chiedere rispetto ai webinar, ben venga Se no, dopodiché iniziamo subito con la nostra lezione di questa sera Immagino che non ci siano domande, come sempre, quindi direi che possiamo anche iniziare E un'ora Enrico E i webinar in questo momento stanno durando sempre un'oretta, minuto più, minuto meno Fino adesso sono stato bravo, dai, nessuno ci credeva che sarei riuscito a farlo durare un'ora Invece, pian pianino comunque, vabbè dai, rispetto ai webinar della scorsa volta Della scorsa stagione che duravano 2-3 ore, voglio dire Sì, Roberta, vai Vediamo la domanda di Roberta Vediamo un po' la domanda di Roberta Simone, non mi fastidire la gente Vediamo, vediamo Ah, tra l'altro vi ricordo che il webinar di ieri sera lo trovate già sul canale Telegram, ho caricato il podcast Poi più tardi mando via newsletter la notifica di link e podcast alla lista di ieri Roberto, ieri hai detto che Eventbrite funziona anche da sito, in che senso? Nel senso, quello che volevo dire è che, diciamo, in generale, fondamentalmente all'interno del profilo di Eventbrite Se vai a vedere la pagina di artlandis.eventbrite.it, in sostanza lì trovate una serie di informazioni ad ampio spettro che riguardano sia un piccolo abstract di Artlandis, dei webinar, eccetera Sia la lista dei link che fanno parte del network di Artlandis Quindi, fondamentalmente, è quasi come avere una landing page Tanto più che io mi muovo, ovviamente, prevalentemente attraverso gli eventi dei webinar che vedete lì, che mi fanno anche da newsletter Quindi è un po' come avere, passami l'espressione, una sorta di blog Che potrebbe tranquillamente sostituire, eventualmente, l'ausilio di una landing page, per così dire Ma, ovviamente, era, come posso dire, una semplice rappresentazione del concetto che abbiamo sviluppato insieme ieri sera Niente di più Figurati Ok, allora Interrompiamo la condivisione e passiamo a quella dello schermo Ok Ditemi se riuscite a vedermi correttamente, a sentirmi ugualmente in modo corretto Ok Allora, prima di tutto vi volevo segnalare il link del webinar precedente La voce va e viene Non mi sentite bene? Ah, ok, forse perché stavo caricando l'immagine Dicevo, su YouTube era già presente il webinar 20 principi della comunicazione visiva Oggi ho caricato anche le slide che a suo tempo mi ero dimenticato di pubblicare E che, in effetti, contengono tutta una serie di riferimenti ai quali mi ero rapportato durante la prima lezione Ovvero, quando parliamo di advertising, inevitabilmente dobbiamo anche riferirci al fattore costruttivo-estetico E esistono una serie comunque di regole che fanno in qualche modo da punto di riferimento rispetto a quelle che sono le attività che andiamo a sviluppare Le 20 regole che tante volte ho citato Alla fine riguardano Eccole qua Eccole qua Eccole qua Riguardano il giusto metodo, il giusto approccio Per riuscire in qualche modo a orientarsi, soprattutto quando si progetta a livello grafico Non dimentichiamoci che va bene teorizzare, però è fondamentale quando si lavora Riuscire in qualche modo anche a mettere in pratica ciò che abbiamo imparato E, ovviamente, all'interno del mondo della costruzione visiva, che riguardano parecchio il mondo dell'advertising Diventa poi fondamentale riuscire in qualche modo anche a orientarsi nella serie infinita comunque di riferimenti che il web ci offre E, come vi dissi a suo tempo, frutto di un libro che avevo acquistato in lingua originale Che poi è stato anche tradotto in italiano Me lo chiese anche Damiano, ma mi sono sempre dimenticato di darti il titolo Damiano, poi lo metto a fine webinar all'interno dei link E questo libro raccoglieva, nella maniera secondo me più adatta Quelli che erano i concetti chiave legati proprio al mondo della costruzione visiva Non si parla solo di grafica, ma si parla proprio di linguaggi visivi E, all'interno del webinar che trovate su Google Plus Community Ci sono comunque tutte queste informazioni spiegate uno per uno Quindi la prima cosa che vi volevo segnalare era questa La seconda cosa importante della volta scorsa In pratica, devo ringraziare Kai Luo Rei Mi sono scritto il nome perché non me lo sarei mai ricordato Che mi segnalava che in effetti per movimentare lo strumento delle griglie Che abbiamo visto all'interno di Photoshop, o meglio della taglierina È sufficiente eventualmente interagire con Shift più O Per modificare in pratica l'aspetto della taglierina Senza ruotare necessariamente l'immagine Quindi una bella segnalazione, insomma Della quale ringraziamo, insomma, Kai Luo Altra cosa molto importante Vi ho messo anche, adesso vi girerò questo link È un link referral E, in sostanza, mi è caduto l'occhio Mentre, diciamo, preparavo i materiali dei webinar All'interno di questa piccola raccolta di griglie Che vi faccio anche vedere Si tratta di una serie di griglie Che fondamentalmente non rappresentano nulla di trascendentale Sono cose che potremmo realizzare noi stessi Ma che, tutto sommato, potrebbero eventualmente aiutare chi magari Con le griglie è poco avvezzo Ecco, con le guide è poco avvezzo E, in effetti, l'ho acquistata anch'io Giusto perché, prima di suggerirlo Voglio sempre provare lo strumento E si tratta di griglie che vengono fornite in Illustrator In Design e, mi sembra, anche in EPS Dedicate a tre formati chiave Tra quelli che, ovviamente, si utilizzano Anche all'interno del mondo dell'advertising Ve lo segnalo perché potrebbe essere veramente utile Quando abbiamo parlato la volta scorsa Non mi sentite? Mi sentite? Ah sì? Aspetta, potetemi controllare un attimino la connessione Boh, qui sono in LTE Quindi sicuramente sarà la piattaforma che Ogni tanto ballonzola un po' Quando muovo magari la pagina Stavo dicendo, la volta scorsa Abbiamo iniziato a parlare Di quanto sia importante l'uso delle griglie Perché, in effetti, al di là delle regole Che vi ho anticipato poco anzi Eh sì, infatti, Simone Avevo intuito anch'io che era dovuto al movimento Dicevo, al di là delle regole Che ci tocca applicare Per riuscire a gestire i tanti elementi Che compongono i nostri visual Dobbiamo ricordarci che però Questo genere di elementi Vanno tutti a depositarsi all'interno di una griglia E tante volte abbiamo parlato dell'importanza delle griglie Proprio perché ci aiutano a gestire gli spazi Non solo quelli all'interno dei quali posizionare gli elementi Ma anche ci aiutano a gestire i cosiddetti vuoti creativi Cioè quegli spazi che, in effetti, non contengono nulla Ma che visivamente hanno il potere di spostare la vista dell'osservatore Verso il punto che più ci interessa E chiaramente si tratta di una comprensione Che man mano sviluppiamo nel tempo A furia di utilizzare, di educare noi stessi Nell'utilizzo di queste griglie Però, ecco, lo stimolo che vi do È proprio quello di cercare sempre Di sfruttare al massimo Sia le griglie che ci offre Ad esempio Photoshop Sia strumenti come questo Ce ne sono anche parecchi gratuiti online Fondamentalmente Quando cercate delle griglie su Google La maggior parte dei risultati sarà legata Prevalentemente alle griglie lato web Però, se scavate bene Poi, eventualmente, qualche altra risorsa Ve la metterò là in mio Troverete tutta una serie di punti di riferimento Che vengono forniti o in vettoriale Oppure direttamente come dei PNG con trasparenza In modo da poter essere applicati all'interno dei nostri elaborati Volevo anche mostrarvi Come vi avevo anticipato la volta scorsa Mi sto zitto mentre mi muovo Volevo anche anticiparvi La bozza di un progettino Che ha dato poi Il via al progetto Che questa sera inaugurerò con voi E che porterò avanti Nelle tutte le lezioni Le lezioni dedicate all'advertising Un argomento che in effetti Poi si incrocerà più volte Con le altre serie di webinar Che già stiamo seguendo Però andiamo un attimino per gradi Qualche tempo fa Sviluppai un tutorial Per gli amici di Fotolia Legato proprio alla costruzione Di una serie di visual Di una campagna advertising Per un soggetto completamente inventato Questo soggetto Eccolo Trattava praticamente Della trama di un film In realtà un film inesistente E all'interno del tutorial Che poi vi linkerò Che adesso vedete in anteprima Fondamentalmente seguivo Quelli che sono I presupposti Che abbiamo visto All'interno della prima mappa Che vi ho mostrato Durante la prima o seconda lezione Adesso non ricordo E che ci aiutano anche a capire Quali siano Gli step operativi Per produrre una locandina Che sia significativa Al fine ovviamente Di rappresentare il concept Che ci interessa Questo tutorial per quanto semplice Mi ha dato il là Al progetto di cui Tra poco vi parlerò Volevo però mostrarvi Come in effetti All'interno di questo percorso Io sia partito Proprio da un normalissimo Schizzo su carta Che fondamentalmente Ci aiuta Anche quando dobbiamo Progettare una campagna A comprendere Quale possa essere Eventualmente L'aspetto principale Che vogliamo offrire La nostra locandina E' chiaro che Nel momento in cui Si comincia a sviluppare Un visual Se stiamo parlando Di un visual Che andrà a finire All'interno dei social Del web O anche all'interno Di una campagna Gestita da terzi Il problema per noi Riguarderà esclusivamente La produzione Del soggetto Visivo E basta Nel momento in cui Invece Dobbiamo cominciare A prevedere Gli spazi Ad esempio Per la headline Gli spazi Per il logo Le dinamiche Gerarchiche Che ci permettono Di leggere I contenuti Della locandina Stimolati Da quello che Effettivamente Da quello che sarà Il lavoro del grafico Del creativo Allora Già lì Dobbiamo necessariamente Tenere in fortissima Considerazione Le regole Di cui parlavamo Prima Regole che ci aiutano Ad esempio A capire Quanti font Utilizzare Che importanza Darà il testo Che importanza Darà il colore Che importanza Darà gli spazi Alle simmetrie Agli elementi In uso E all'interno Di queste fasi Di produzioni Esistono Quegli step operativi Che avevamo visto La volta scorsa Faccio un esempio Veloce Che poi Andrò A esplicitare Meglio Nel presentarvi Il progetto Che condivideremo Insieme Di lezione In lezione All'interno Di ciascun progetto E' chiaro Che la prima cosa Che si fa E' cercare Di capire Quale debba essere Il famoso mood Della situazione Io quando progetto Ad esempio Una campagna advertising Mi preoccupo parecchio Di selezionare Prima di tutto Il mood Perché Perché Il mood Cioè Il tipo di emozione Che devo suscitare Con immagini Toni colori E quant'altro Al di là Dell'essere poi Captato Come abbiamo visto Ieri Da un film Piuttosto che Da una Immagine Che ci fa Da punto di riferimento Per i colori Esso diventa In qualche modo Anche la soluzione Estetica E la scelta Lato fotografico O elementi grafici Che siano Che poi andranno A comporsi A organizzarsi All'interno Ad essere organizzati Anzi da noi All'interno Del nostro visual Nell'esempio Che state osservando La prima cosa Che io feci Una volta Identificato Il tipo di soggetto Cioè Un film Dedicato Ad una sorta Di Amelie Contemporanea Mi riferisco Al film Amelie Identificando Ovviamente Il personaggio In un contesto Particolare Che era quello Di una sorta Di caffetteria Gestita da questa Ragazza Così sognante Alla fine Ho iniziato Appunto A cercare Degli oggetti Delle immagini Che fossero In grado Di sviluppare Questo mood Di cui si sta parlando E iniziai Per l'appunto A scaricare Una serie Di immagini Come quelle Che state osservando Scelsi anche Il tipo di soggetto Rintracciando Un soggetto Umano Scendo un po' Così si vede Un po' meglio Rintracciando Un soggetto umano Che come si vede Dalle anteprime Era fondamentalmente Adatto A quello Che volevo Rappresentare Cioè Il carattere Un po' Trasognante Di questa figura Che sarebbe stata Poi La protagonista Di tutti i visual Nello scegliere I soggetti Se ci fate caso Prevalgono anche Una serie di toni colore Che vanno Dal marrone Del cioccolato Che serviva ovviamente A sviluppare Il senso di dolcezza All'arancione Dell'albicocca Per esprimere L'allegria Quindi la mia palette Cromatica Iniziava a comporsi Dalla scelta Delle foto Il giallo Del miele Il luminoso Del miele Che oltre a ricordare Ovviamente Delle sensazioni Negli occhi Dello spettatore Aveva il compito Anche di rappresentare La gioia della vita Perché ovviamente Il colore del miele Lo associamo Istantaneamente Alla luce Al sole E così via E nello scegliere I vari soggetti Ovviamente Si passava Trattandosi Di un film ambientato In una caffetteria Immaginaria Si sceglievano Anche soggetti Ad esempio Legati Ai tipici elementi Della colazione Quindi fondamentalmente Il concetto chiave Legato al mood Era Sweet Dolce La dolcezza Quindi un po' Comunque L'aspetto romantico Del protagonista Sto esplicitando Questo genere Di ragionamento Per farvi capire Come Dato un tipo Di concept Chiave Che doveva essere Quello Ad esempio Il film La trama Il protagonista Le caratteristiche Del soggetto Spetta sempre a noi Il compito Poi di Convertire Tutte queste informazioni In immagini Ed elementi grafici All'interno Della Adesso vi farò vedere Pian pianino I vari passaggi Del tutorial Vedrete che A un certo punto Non mi accontento Neanche Di utilizzare Semplicemente Le immagini Ma comincio Ad integrare Degli effetti Grafici Un po' Particolari Perché Perché era la scelta In questo Diciamo Semplicistico Tutorial La scelta estetica Per rappresentare L'aspetto Sognante Della protagonista Ovviamente Avevo scelto La protagonista Non a caso Perché in quelle immagini Aveva Come rivedrete Tra poco Aveva delle sorti Di ali Legate alle spalle Delle ali Fotografate All'interno Della scena Dal fotografo Che sviluppò Quella foto E che però Facevano il paio Con l'aspetto Romantico Trasognante Della protagonista Però in effetti Quando dobbiamo Rappresentare Un concept Ci dobbiamo Ricordare Di una di quell'eventi Regole Che dice Si deciso Se devi fare qualcosa Falla con decisione Oppure non farla Le vie di mezzo Non vanno mai bene E in advertising Questo principio È spesso Mantenuto Con ferrea decisione Proprio da chi Sviluppa il visual Perché deve essere Direttamente chiaro Il tipo di approccio Che si vuol dare Se io ad esempio Utilizzo semplicemente Delle immagini E gli metto sopra Dei soggetti Senza alcuna Lavorazione particolare Il film potrebbe Tranquillamente Essere Un film Con la protagonista Che lavora In una caffetteria Quando invece Dobbiamo rappresentare Amelie O quando ci ricordiamo Del film Il favoloso mondo Di Amelie Noi non lo associamo Semplicemente Alla simpatica Protagonista Ma in particolare Alla sua capacità Di trasformare In sogno La sua quotidianità Nel film Se fatemente locale La protagonista Cosa faceva Non faceva altro Che immaginarsi Una scena Fantasiosa Dopo l'altra E romanzando Tutto quello Che era la sua vita Ovviamente Non faceva altro Che vivere Un po' con la testa Tra le nuvole Quel tipo di concetto Va rappresentato E nel rappresentarlo Ovviamente Spetta a noi Il compito Di scegliere Foto ed elementi E poi Lavorarli All'interno Del Del visual Che stiamo sviluppando Vi faccio notare La scelta Delle immagini Perché tra poco Quando vi presenterò Il progetto Vi spiegherò Che quel progetto Che tra poco Condividerò Con voi L'ho organizzato In maniera Molto molto realistica Tra poco Ci capiremo meglio Ma vedrete Quanto spazio ha La selezione Delle immagini E la scelta Dei giusti mood Visivi Tra poco Ci arriveremo Nel Identificare La scelta Ad esempio Del soggetto Delle locandine Così come In advertising Facciamo sempre Riferimento Non solo Ai competitor Ma anche In generale Al settore In questo caso Io feci una ricerca Dedicata Alle locandine Che in quel momento Risultavano Le più apprezzate Ricercando ovviamente Stili grafici Ma anche Impaginazioni Che fossero In grado In qualche modo Di darmi Qualche spunto Creativo In quel momento In effetti Non c'erano Molti film Come è capitato Negli ultimi 3-4 anni Non c'erano Molti film Dedicati al mondo Della cucina O meglio Esistevano Sì Però Non ci trovavamo In una fase Come quella attuale All'interno Della quale L'elaborazione Grafica Anche su soggetti Di un certo genere Raggiungono apici Differenti E comunque Cercai dei punti Di riferimento Proprio per rappresentare Gli aspetti Che mi interessava Mettere in evidenza All'interno Della locandina Quello che quindi Ho fatto È stato Prima di tutto Come vi dicevo prima Iniziare a disegnare Una bozza Delle locandine Qui ovviamente Essendo un tutorial Ho simulato Uno sketch Sulla Sulla carta Però Come vi ho detto Tante volte Il bozzetto A mano Diventa per noi Importante Perché ci fa Da punto di riferimento Per capire Come imbastire La scena Addirittura Se io Ho già Più o meno In mente Una sorta Di layout Una disposizione Degli elementi Una griglia creativa Sarà anche più facile Riuscire a scegliere Le immagini Di riferimento Considerando che Ogni tipo Di immagine Che vada a recuperare Per esempio Su Adobe Stock Ha un orientamento Orizzontale Verticale Quadrato A seconda dei casi Questo genere Di soluzione Mi facilita Il flusso lavorativo E non è da sottovalutare Nella produzione Ecco qui Nella produzione Del lavoro in sé Ovviamente Io qui Sono partito Da una griglia Estremamente semplice Cioè La divisione In terzi Di ciascun lato Del mio foglio Proprio perché Il tutorial Riguardava L'uso basico Delle griglie Questo ovviamente Però è un approccio Che può essere sviluppato In tutte le direzioni E una volta Che abbiamo compilato Come possiamo dire La prima fase Dell'inserimento Dei soggetti Ci aiuta parecchio Poi intervenire Con quelle griglie creative Che abbiamo visto La volta scorsa E cioè La regola Le regole fondamentali Della composizione visiva Tradotte Nella regola dei terzi Nella diagonale creativa Nella spirale A secondo ovviamente Di ciò che Più o meno Ci viene comodo Nel momento In cui andiamo A progettare E fra l'altro Ci tenevo anche A sottolineare Una cosa Di cui discutavamo Con Kailu In privato All'interno della pagina Giustamente Lei mi ha detto Quando io La volta scorsa Ho suggerito Come metodo Più pratico Quello della Diagonale creativa Per esempio Rispetto alla spirale Mi ha detto Lei io non ero Molto d'accordo Perché effettivamente Trovo più semplice La spirale In effetti Tecnicamente parlando Sono anch'io D'accordo con lei Però dobbiamo ricordarci Che non dobbiamo Essere noi A forzare Noi stessi Nell'uso Di uno strumento Anche quando Quello strumento Rappresenta In generale Una regola Quasi assoluta Visto che ci sono Delle alternative Quello che io Solitamente suggerisco Quando tengo dei corsi Di advertising O di grafica È di cominciare Con quelle griglie Che sono alternative E che abbiamo visto All'interno di Photoshop Essere disponibili Nello stesso pulsante Quelle griglie Che fanno Al caso mio Cioè con le quali Mi trovo più a mio agio E pian piano Iniziare a comprendere Per esempio Vedendo il risultato finale Come le alternative Si applicano Al nostro lavoro È un modo Comunque per Assorbire Il concetto chiave Ad esempio Dietro l'uso Della spirale Evitando errori comuni Che ho visto Applicare online Come vi dicevo La volta scorsa Ho visto tante volte La spirale Per esempio Applicata Forzatamente A soggetti Che non c'entravano Veramente nulla Con la spirale Perché si cercava Appunto Di infilarci La forza Quindi Cerchiamo effettivamente Di Partendo dalle basi Di capire bene Come si utilizzano Questi strumenti E poi via via Ovviamente Spandiamo Facciamo un passettino Più avanti E integriamo Un qualche cosa In modo fluido Nel primo step Operativo L'altra volta Citavo Un elemento cardine Che qui Vedete rappresentato In questo caso Ovviamente La locandina Avrà il bianco Come punto di riferimento Per voler dare Un senso di positività Anche se poi Negli altri soggetti Vedremo che Ho variato un po' Il tono Però vi dissi La volta scorsa Che se prendete Una pubblicità Qualsiasi Chiamiamo pubblicità I visual Di advertising Tanto per Velocizzare Diciamo La spiegazione Se prendete Un visual Pubblicitario Qualsiasi Vi accorgerete Che Nella maggior parte Dei casi Si lavora sempre Tono su tono E cioè Si cerca Di mettere insieme Due colori Che solitamente Sono tono su tono Verde chiaro Verde scuro Rosso chiaro Rosso scuro E così via In modo da creare Il cosiddetto Effetto faro Cioè Si cerca Di Enfatizzare Il punto Il punto Che ci interessa Di più Della locandina Sfruttando Ovviamente Le sfumature Radiali Come ho fatto Io in questo caso Non ho fatto Altro che Applicare Una sfumatura Radiale All'interno Praticamente Di questa locandina O addirittura Qui l'avevo fatta Ancora più semplice Con una pennellata Non ricordo Però il concetto Chiave è Creo Un punto di attenzione Dove il colore È più concentrato O meno concentrato Il famoso effetto Faretto E sfuma Ai margini Così da creare Una prima Gerarchia visiva Nel momento In cui poi Inizio ad applicare I miei soggetti Ovviamente Poi posso scegliere Tutti i linguaggi visivi Che voglio Nel mio caso Iniziai Semplicemente Scegliendo Quelle immagini Ad applicarle All'interno Del visual Nello scegliere Il tipo Di impaginazione Ovviamente Ho voluto Rappresentare Nell'uso Della griglia Uno spazio Maggiore Da dedicare A che cosa? A quella sorta Di elemento Fantastico Creato Con delle banalissime Pennellate Una spirale E che nulla Centra ovviamente Con la spirale Che abbiamo citato Prima Che Imposta All'interno Del layout Se ci fate caso Occupa due terzi Rispetto a quel Singolo Un terzo Nella scena Che occupa Il personaggio Questo perché Impariamo un attimino A leggere I visual Che ci vengono Proposti Il mio personaggio È un personaggio Che vive con la testa Tra le nuvole Il che vuol dire Che la particolarità Non è il concetto Essere umano Che sogna Ma il sogno In sé Cioè la dimensione Fantastica Per questo motivo Il personaggio Fondamentalmente È relegato All'interno Della locandina Come se fosse Parte in causa Del suo sogno Ma il vero protagonista Dovrebbe essere Proprio La somma Dei suoi pensieri Attenzione a questo tipo Di indicazione Che vi sto dando Perché vi garantisco Che si tratta Di ragionamenti Che vanno fatti Ogni volta Che creiamo qualcosa Cioè ci dobbiamo Sempre chiedere Chi è Il protagonista Del mio visual Perché la risposta A questa domanda Non è così banale Come si può Immaginare Nel mio caso Quindi ripeto Ho voluto utilizzare Un aspirare Non regolare Perché ovviamente La dimensione Del sogno Non è mai Come un'immagine Netta e pulita E l'ho voluta Rappresentare Con quel tipo Di segno grafico Procedendo poi Con l'elaborazione Ovviamente Ho applicato A quel segno grafico Una serie di immagini Per verificare Quale potesse Starci meglio E contemporaneamente Ho sfruttato La mia griglia Per creare Ecco Gli spazi Che dovevano Raccogliere Le informazioni Principali Legate Alla locandina L'uso Di box Di sfondo In realtà Oggi Personalmente Non Non lo consiglierei Però c'è da dire Che in alcuni contesti Dove ad esempio La sovrapposizione Degli elementi Rende difficoltosa La lettura Dobbiamo sempre Cercare il modo Di rendere Più leggibile Il testo E personalmente Non ho mai amato Gli effetti Ombra Sul testo Preferisco Di gran lunga Rispettare La regola Che vi ho citato Prima Sì deciso Fallo O non fallo Cioè Sì deciso Metti in evidenza Il testo O non metterlo In evidenza Ma a me serve Metterlo in evidenza Quindi Ho creato Dei box O potrei creare Altri box Differenti Proprio per Raccogliere Il punto di vista Dell'osservatore E concentrare La sua attenzione Proprio all'interno Di questi due box La scala Di colori Ovviamente Che utilizzo È ispirata Come avevamo detto Prima A quella Gamma cromatica Frutto Dell'analisi Delle immagini Alle quali ci siamo Riferiti Ma resta Comunque Ovviamente Ovviamente Poi nostra La scelta Di variare Tra le varie opzioni Nelle varie locandine I soggetti Tra poco Ci attiveremo Ecco Questo era un esempio Veloce Per banalizzare Proprio la scelta Dei toni colore Che si ispiravano Per l'appunto A tutto ciò Che abbiamo detto prima Ah Cosa molto importante Quando poi Chiuderò Questa finestra Vedrete che All'interno Della cartella C'è anche Un file In illustrator All'interno Del quale Per preparare Il tutorial Dovetti scegliere Per esempio Il tipo Di La famiglia Ecco Di font Da dedicare Al progetto Anche questo È un aspetto Molto particolare Che però Poi andremo a studiare Nella serie Cooking Graphic E ho preparato Per quello Per la prossima settimana Una lezione Molto particolare Sulla scelta Del giusto font Scusate Ricordiamoci Che Quando si sceglie Una famiglia Di font Dobbiamo sempre Fare attenzione All'operare Quella scelta Perché Perché ciascun font Con tutte le sue caratteristiche O ciascuna famiglia di font Con tutte le sue caratteristiche In realtà È in grado Di sostenere Il mood O il concept Chiamatelo come volete Relativo al vostro visual Che Viene Diciamo Ad essere supportato Proprio dal tipo Di carattere scelto Non so se Ad esempio Avete mai fatto caso Che Molto spesso Esiste un tipo Di font Che viene utilizzato Per i film Di natura Fantascientifica O ad esempio Per film Di natura Legati allo spionaggio Legate ad esempio Alle indagini E quant'altro Soprattutto Quando si vuole Rappresentare Un intrigo Oppure Un qualcosa Comunque Di Come posso dire Contemporaneamente Tecnologico Ed evoluto Il font In questione È il bank Gothic Se provate A cercare Online Scoprirete Che davvero Tanti film Utilizzano Proprio quel carattere Addirittura Per presentare Il logo Del film O le headline All'interno Delle varie locandine Ora Al di là Della scarsezza Di fantasia In effetti Alle volte Si tratta Realmente Della necessità Di trovare Un tipo Di carattere Che Presenti Le caratteristiche Che ci interessano Più alto Più basso La crenatura Il kerning La spaziatura Che abbiamo Ad esempio Tra le interline E così via Questo ci spinge Ovviamente A dare molto peso Al tipo Di carattere Che utilizziamo Nella fattispecie Io ho scelto Un carattere Serif Proprio perché Avevo bisogno Di trasporre La natura Romantica Sognatrice E tra virgolette Classica Perché è un concetto Molto classico Attraverso La scelta Di questo font Quindi Volevo Rappresentare Il concetto Del romanticismo Del soggetto Con un carattere Che appunto Equivalesse A quel tipo Di sensazione E solitamente Per rappresentare Questo tipo Di caratteristiche Si scelgono Per l'appunto Dei font Di natura Serif Con le grazie Comunque magari Più o meno decisi Con un corpo Più o meno ampio Addirittura Si va sugli script Insomma Ci sono ovviamente Scelte Assai diverse Per completare Il visual E personalizzare Ulteriormente La scena Ovviamente Noi poi Possiamo intervenire Con tutta una serie Di elementi In questo caso Ad esempio Che cosa ho fatto Ho integrato Dei segni In versione Handmade Cioè Creati a mano Che andavano A personalizzare Ulteriormente La scena Cercando Di Come posso dire Suggerire L'identità Il concetto Di identità Come lo esprimo Il concetto Di identità All'interno Di una locandina Ci sono tanti modi Diversi Dall'uso del colore All'uso di altri approcci Uno di quelli Che però troviamo Più spesso sfruttato È proprio quello Di integrare Elementi disegnati A mano Addirittura Arrivando Certe volte A trovare Delle intere headline O degli interi Body copy Cioè Dei testi all'interno Diciamo Dei vari visual Completamente Scritti a mano È un approccio Che per esempio Con il mio collega Fabio Che ho visto Insomma Che è collegato Stiamo utilizzando Su un cliente Il quale Praticamente Si occupa Di ristorazione E anziché Offrirgli La classica Accoppiata Di caratteri Di fonte E quant'altro I suoi visual Sono tutti Caratterizzati Da scritte A mano E queste scritte A mano Ovviamente Richiedono tempo Però Caratterizzeranno E già lo fanno Perché ovviamente Abbiamo già sottoposto Il tutto al cliente E contento Della situazione Caratterizzano Lo stile Che vogliamo applicare Proprio A quel tipo Di identità Visiva Per rimarcare Il concetto Forte Di identità Individuale E di estrema E di estrema Come posso dire Empatia Ovviamente In quel caso Suggerita Tra il brand E l'utente Che osserva Questa ad esempio Era una delle varianti Che avevo utilizzato Velocemente Ribadisco E' chiaro Che come ho detto La volta scorsa Realizzare un visual Non significa Semplicemente Mettere insieme Velocemente Gli elementi Di solito Si dovrebbe Cominciare A virare Un po' Il colore A lavorare Di post produzione E così via Ma nel tutorial Ovviamente Abbiamo fatto Un esempio Veloce Nel progetto Invece Che svilupperemo Insieme Lì Ci dovremmo Lavorare Un bel po' I soggetti Finali Del nostro Tutorial Alla fine Erano appunto Questa serie Di locandine L'idea Di fondo Era quella Di creare La base Un bozzetto Valido Per una sorta Di campagna A soggetto Multiplo Come abbiamo Spiegato La volta scorsa E' chiaro Che quando abbiamo Campagna A soggetto Multiplo Ci possiamo Riferire A un singolo Protagonista Oppure a più Soggetti Che sono Parte Diciamo Della trama Siccome Il nostro Film Fondamentalmente Come abbiamo Detto Non aveva Realmente Per protagonista Nel soggetto La ragazza In sé Quanto i suoi sogni Ecco che Il soggetto Viene sempre Ad essere In qualche modo Riportato Ad una dimensione Ridotta E la fanno Da padrone Invece Che cosa I contenuti Praticamente Delle scene Del suo sogno Cioè Nella trama Originale Questo personaggio Fondamentalmente Associava Ai sapori Dolci Dolciastri Gustosi Eccetera Una serie Di sogni Ed ecco perché Nei nostri Visual In effetti C'era Tra virgolette Una sorta Di racconto Abbozzato Che veniva Poi suggerito Accompagnato Proprio Da questi Soggetti In versione Campagna Che poi Ovviamente Questi erano Una sorta Di locandine Teaser Si sarebbe Dovuto Sviluppare Idealmente In altre Direzioni Dulcis In fundo Ovviamente Quando si sviluppano Dei soggetti Di campagna Ci si basa Anche Sulla volontà Di creare Un linguaggio Visivo Spezzandolo Al contempo Questo perché Perché come abbiamo Detto tante volte Quando si lancia Un'iniziativa O si genera Una campagna Devo anche Essere in grado Di variare Tra virgolette I toni Della mia Campagna Non posso Ad esempio Creare Dieci soggetti Tutti Dello stesso Genere E lanciarli Nel tempo Anche frazionati Due oggi Due domani E così via Sperando 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 che tutti Attecchiscano Alla stessa Maniera In qualche modo I primi Offrono una sorpresa Allo spettatore I secondi Possono compiacere Allo spettatore Rispetto a ciò Che aveva già visto Il giorno prima Già il terzo Però sarà una ripetizione Dei primi due giorni E allora Un approccio Che si utilizza All'interno del mondo Dell'advertising Consiste Nel tentativo Di variare Soprattutto Su campagne lunghe Il tipo Di soggetto Mantenendo però Il mood inalterato E per questo Che tante volte Quando osserviamo Delle campagne lunghe Dopo un certo periodo Di tempo La natura stessa Dello spot Cambia Succede in televisione Succede sui social media Succede un po' Dappertutto Perché rischiamo Di annoiare Per questo Chi progetta la campagna Non progetta Esclusivamente Il contenuto principale E Una, due, tre Quattro varianti Ma si lega Anche A concept Visivi Differenti Che però Attenzione Come ho detto Mantengono il mood Nella foto in questione Per esempio Avevo voluto dimostrare Come anche una foto Ben scelta Poteva diventare Un soggetto interessante Nel momento In cui ne stravolgiamo Le caratteristiche La scena Ovviamente In questione E' chiaro Che è facilmente Riconoscibile Ma nella sua Particolarità Rappresenta Un qualcosa Di impossibile Cioè La crema Ovviamente Capovolta E la gravità Capovolta Rappresentativa Del mood Di cui Avevamo Parlato Tutto chiaro Fin qui? Tutto chiaro? Io ovviamente Sono andato Insomma Dritto al punto Poi chiaramente Se c'è qualcosa Cosa che magari Vi ha stimolato Fatemi qualche domanda Tutto questo discorso Va nella direzione Che sono andato Praticamente A sviluppare Adesso seguitemi bene Perché Ciò che adesso Vi andrò a presentare E' un progetto Del tutto simile A A quello che fu Qualche tempo fa Furono Anzi Una serie di webinar Concettualizzati All'interno Di una identità Non esistente Che abbiamo utilizzato Come traccia Mi riferisco A quelli di voi Che se lo ricordano A Creamy Wonderland Piccolo Piccola parentesi Tempo addietro Esatto Tempo addietro Dovevo Praticamente Creare una serie Di webinar Cercando di spiegare Come si portava avanti Una campagna Dal punto di vista Strategico Dell'identità La creazione del logo E quant'altro Anziché Creare delle lezioni astratte Che purtroppo Ovviamente Sono in qualche modo Alle volte anche Non dico poco interessanti Però hanno poco appeal Perché studiare I casi astratti E' una cosa che fanno tutti Chiunque oggi Scrive un blog Scrive un ebook Organizza video Webinar Conferenze Seminari Workshop Però in effetti Il problema è che Quando si astrae troppo Il concetto Alla fine non si fa Che ripetersi O parlarsi addosso Io stesso non so Quante volte ho ripetuto Gli stessi concetti Di webinar In webinar Però Quando dovetti Raccontare Quella serie di webinar Decisi una cosa Un po' diversa Cioè Inventai Di sana pianta Un'azienda Che non esisteva Le assegnai Una vision Una mission Un logo Un'identità grafica Dei prodotti Dei servizi Addirittura Il rappresentante Dell'azienda Ciccio Batocchio Un brief E cercammo Di sviluppare insieme Tutte le caratteristiche Che riguardavano Quest'azienda Quindi ci confrontammo Con una sorta di brief Reale Questi webinar Tra l'altro Li trovate ancora online Anzi poi Visto che li ho citati Li raccoglierò Su Google Plus Community Così effettivamente Avete anche dei riferimenti Ho pensato In effetti Che visto che Dovevamo parlare Di advertising E visto che di advertising Ho parlato spesso Negli ultimi Due anni Ho pensato Di creare Un soggetto Molto particolare Studiato nel dettaglio Quella che vedete È solo una mappa Di anteprima Da sviluppare insieme Di lezione In lezione Un soggetto Di natura Cinematografica Che ci dia La possibilità Di sviluppare Non solo L'advertising Dedicato Ma di applicare Quello che abbiamo detto Ieri sera Dai video a 360 Alle locandine cinematiche Dai teaser A tutto il resto Audio incluso Così ho pensato Di collegare Due serie di webinar In modo da mettere In pratica il tutto E No troppo tardi Simone Me l'avevo già montato da solo Ma dall'84 Allora Innanzitutto Vi spiego Stasera Vi do i primi input Che poi trasmetterò Tramite slideshare Perché questa infografica Che vedete La spezzetterò E la pubblicherò online E da quel momento in poi Inizieremo a seguire il tutto Ho già preparato anche Una serie di riferimenti Che troverete Proprio in formato link Allora La sigla Che avete sentito Mentre aspettavamo Di iniziare il webinar Era la soundtrack Di un film Che a me piace moltissimo Che si chiama Strange Days Che vi invito a recuperare Perché è un po' Una chicca Amata Diciamo comunque Dai cinefili E non solo Un film Fatto bene Dalla regista Che per chi non lo sapesse È la stessa Del film Hurt Locker Che è una regista Che io personalmente adoro Ora Questo film Aveva delle caratteristiche Molto molto particolari Fondamentalmente Era un film Di genere distopico Che però Riusciva a non eccedere All'interno Praticamente Della Della sua trama Non entro di più Nel dettaglio Perché poi Il link Al film A parte che lo potete Sempre recuperare Però il link al film Poi ve lo metterò online Allora ho pensato Di vestire I panni Di uno Sceneggiatore ideale Che ha deciso Di fare Un seguito ideale Di Strange Days E chiamarlo Stranger Days The Switchboard of the Soul E cioè Ho preso Una battuta del film E l'ho trasformata Nella headline Del mio film Attenzione In questo momento Ci troviamo Nella fase Nella quale Il cliente Viene da noi E ci dice Io ho un'idea Sto sviluppando Sto sviluppando Un progetto Che può essere Un'azienda Un brand Qualunque cosa Noi lo seguiremo Sotto questo aspetto Ma ogni presupposto Che affronteremo Riguarderà ugualmente Anche L'approccio Diciamo Che va gestito Ecco L'approccio ideale Da utilizzare In generale Quando si affronta Il tema Dell'advertising Bene Questo sceneggiatore Insieme con il regista Entrano nel nostro ufficio E cominciano a dirci Noi stiamo scrivendo Questo film Innanzitutto Avremo bisogno Di noi Di voi Cioè di tutti noi Diciamo come Se fossimo una sorta Di agenzia allargata Per sviluppare Non solo La comunicazione Ma in generale Anche la strategia E promozionale Attraverso L'advertising Che si tradurrà In visual Veri e propri E adesso poi vedremo Anche in che senso Che si tradurrà Poi in video Quindi seguiremo Un processo Che in effetti Si svilupperà Tra webinar Mini tutorial Che pubblicherò Nel famoso canale Vimeo Che dovrei riuscire Ad aprire Entro breve E soprattutto Attraverso Una serie di slide Che accompagneranno Il tutto Ma ho reso Il progetto Ancora più interessante Perché Seguiremo Questo genere Di Aspettate Che non mi ricordo Dove che l'ho scritto Eccolo qua Seguiremo Questo genere Di approccio Sviluppando Al contempo Anche i canali social Così da seguire I vari passaggi Del progetto Come se idealmente Tra una lezione E l'altra Il regista E lo sceneggiatore Andassero a comunicare Con noi costantemente Quindi ho costruito Una sorta di percorso Ideale Che si concretizzerà Anche all'interno Di una Diciamo Di una serie Di elementi Che vedremo Con i nostri occhi Di canali Proprio dedicati Che sono quelli Appunto Che avete visto In evidenza Vi anticipo Che avete notato Che c'è anche Citato Beans Perché vi Inviterò Chiunque abbia voglia Di farlo A partecipare A dire visivamente Esteticamente A qualsiasi Livello A dire la vostra E ovviamente Ciascuno di voi Chi vorrà partecipare A questa sorta Di esperimento Perché è anche Un esperimento Lo potrà fare Condividendo il lavoro Seguendo le istruzioni Che io poi vi darò In modo tale Che ciascuno Pubblicherà Quel lavoro A proprio nome E il progetto Poi raccoglierà Il nome Di tutti I protagonisti Qualcuno Qualcuno si diletterà A sviluppare Ad esempio Il logo Mentre lo svilupperò Anch'io Ovviamente Per conto Diciamo Di questo regista Qualcun altro Preferirà dedicarsi Al mood Al visual Al concept Secondo quelli Che sono i vostri gusti E come ho scritto Oggi Addirittura Ad Elena e Marco Che so che si occupano Di musica Ma estendo il tutto A chiunque lo desideri Potranno Chiunque lo desideri Potrà partecipare Al tutto Anche attraverso Le proprie arti Loro si occupano Di musica Quindi ci sarà poi Un modo per Spingere avanti Il tutto Allora Seguitemi un attimo Così vi presento I primi spunti Del film Così da farvi capire Quanto diciamo Sono sceso nel dettaglio Nell'organizzazione Del film Il regista in sé Mi ha spiegato Che in pratica Questa sorta Di fan film Si ispira Al film Strange Days E si basa Su alcuni punti chiave Che ha tradotto In una serie di citazioni Prese proprio dal film Che diventeranno Ad esempio Le headline Del nostro visual In più Questo regista Con lo sceneggiatore Mi ha anche spiegato Ci ha anche consegnato Un piccolo documento Che rappresenterà Un po' il brief Della situazione E che poi pubblicherò All'interno del blog Di questo genere Di progetto In modo tale Che tutti noi Possiamo leggere Cosa Regista e sceneggiatore Ci hanno voluto dire E questi due autori Ci hanno anche dato Una serie di riferimenti Di natura cinematografica Per farci entrare Ancora un po' di più All'interno Del mood Del loro progetto Un po' come fa Un'azienda Quando ci presenta Vision e Mission E ci spiega Le caratteristiche Che dovrà avere La loro campagna Queste caratteristiche Vengono ovviamente Sempre tradotte Da noi Questo è il nostro lavoro In ciò che viene Identificato Con il concetto Chiave Key visual Cioè nelle caratteristiche Estetiche Ma al di là Delle note Che poi pian piano Vedrete Che sono tutte quelle Esplicitate qui dentro La cosa bella È che Regista e sceneggiatore Hanno addirittura Già creato Una bacheca Con tutta Una serie di riferimenti Per farci capire Qual è il genere Di mood Che si vuole sviluppare Sulla trama Poi Lo scoprirete All'interno del blog Vi anticipo anche Che in questa sorta Di blog Puntata dopo puntata Regista e sceneggiatore Ci daranno Diciamo Ci racconteranno La storia In formato sceneggiatura Di questo fan movie Quindi noi avremo La possibilità Di seguire realmente Lo sviluppo Di questa sorta Di film ideale E questa bacheca Che troverete come link Ma se volete Potete già dare un'occhiata Ve la metto qui Eccola Raccoglie Gli spunti Ah sì Perché mi ha lasciato Un messaggio Che ancora devo leggere Me lo sono accorto prima Dicevo In questa bacheca Trovate una serie Di spunti Legati al concept Che il regista E lo sceneggiatore Ci hanno già spiegato Nel brief Perché non si tratta Di un semplice film Di natura distopica Cupo E tutto il resto Chi ha visto Il film Strange Days Sa che dentro quel film C'era diciamo Un mood emozionale Molto particolare Che non era Il classico film Di natura triste Come tanti distopici Ma era In qualche modo Infarcito Di una serie Di sensazioni Legate ai sentimenti umani Agli esseri umani E le loro dinamiche All'amore Alla speranza Perché no Comunque diciamo Alla possibilità Di migliorare le cose E questo è un po' Il mood Che questi due autori Regista e sceneggiatori Vorranno dare Non a caso Nella selezione Di immagini Che sono i soggetti Di riferimento Che in advertising Corrispondono Come dicevamo Ad esempio Ai competitor Al settore di riferimento Ai casi studio Del passato Eccetera Ci sono Quegli spunti Narrativi Che ci aiuteranno A creare La key visual Della nostra campagna Di advertising Con tutto ciò Che può riguardare Il tema Del film In più Non è finita Gli autori In questione Hanno anche Raccolto In una libreria Adobe Stock Una serie Di riferimenti Visivi Per dimostrarci Come in effetti Possiamo Già realizzare Gli aspetti Della campagna Di advertising Ispirati Dai pin Di Pinterest Grazie Alle foto Di Adobe Stock E dentro Questa galleria Fatta di 99 soggetti Noi cominceremo Fra l'altro Ognuno di quelli In utilizzo Poi di volta in volta Li condividerò Con voi In modo tale Che senza doverle Per forza comprare Possiate anche voi Come farò io Inserirle nelle collection E utilizzarle realmente Quindi siamo nella fase In cui daremo I bozzetti al cliente E una volta Che il cliente deciderà Acquisteremo Per esempio Le immagini Chiaramente lo farò io Ma chi lo vorrà Lo potrà fare anche Di per sé Dentro questa galleria Attenzione Parto dal basso Troviamo anche Una serie di riferimenti Rispetto ad alcuni Ad alcuni elementi Che nella mappa Che avete visto Di sfuggita poco fa Traggono spunto Da una serie Di considerazioni Sia Nate all'interno Del film Strange Days Sia Oggetto di interesse Rispetto alla serie Di film Che ci sono stati Suggeriti Dal regista sceneggiatore Come punto di riferimento E per questo Che all'interno Della selezione Che hanno fatto Questi due soggetti Sono presenti Anche tanti Soggetti umani Fortemente caratterizzanti E una serie Di elementi Cromatici Molto molto Particolari Il nostro lavoro Ovviamente In questo caso Consisterà Dapprima Nel rapportarci Rispetto a quello Che solitamente Sono visual E mission Dell'azienda E che per noi Invece si traducono Appunto nel plot Che è stato scritto Per questa sorta Comunque Di produzione Fan made Che però Vuole essere Di natura professionale E che noi Dovremmo tradurre Torno alla nostra Mappa Dovremmo tradurre In una sorta Comunque Di mix Ecco Guardate Sia questo Che il mood In alto Dovremmo Guardate Sia la parte Technic Che mood Ve li metto In evidenza Ecco Dovremmo tradurli Attraverso una serie Di tecniche L'approccio Ovviamente Di natura Distopico Fantascientifico Ma Senza eccessi Sceneggiatore E Regista Sono stati Molto chiari Nello spiegarmi Che non vogliono In alcun modo Eccedere Sul lato Fantascientifico Non ci sono alieni Non ci sono mostri Non ci sono Non c'è niente Di tutto questo Si tratta Seguendo il mood Del film originale Di una realtà Futuristica Ma molto molto Vicina a noi Di conseguenza Potremo sfruttare Anche elementi Che conosciamo bene Che ad esempio Tradurremo Nei video a 360 O in video Interattivi Di tipo particolare Come quelli Di cui parlavamo Ieri sera Nel trasformare Le nostre visioni In qualcosa Di un po' particolare In più Ci sono degli spunti Legati appunto Non solo Alla tecnica Ma anche Alla necessità Di convertire In elementi Promozionali Ad ampio spettro Quello che sarà Per l'appunto Il mood del film Mi riferisco A locandine A locandine animate Mi riferisco A rappresentazioni Lato social Mi riferisco Ad una strategia Promozionale Tipo quella Ispirata a quella Dei film cinematografici Di cui parlavamo Ieri E perché no Ovviamente Lavoreremo Anche attraverso L'ausilio Del flusso audio Quindi creeremo Una nostra Soundtrack E vedremo Come e quanto Un advertiser Può eventualmente Coinvolgere Oggi che abbiamo I mezzi a disposizione Una buona traccia audio Non solo con L'uso della motion graphic Ma anche Con l'uso Ad esempio Dei soggetti visivi Quindi il nostro approccio Sarà ovviamente Quello di Assecondare Le richieste Di questi due soggetti Mettendo in pratica In sostanza Il loro brief Che qui Volutamente Ho omesso E che poi Vedremo Un passo alla volta Insieme Si tratta ovviamente Di un esperimento Che condividerò Con voi E che può Crescere insieme a voi Quindi mi auguro Che chiunque di voi Lo desideri Insomma Abbia voglia Di seguire Questo genere Di percorso Che tra l'altro Sarà Diciamo Anche Poi Fatto convergere All'interno Di un nuovo progetto Sotto traccia Che qualcuno di voi Presente qui stasera Almeno tre Di quelli che ho visto Conoscono bene Una sorta Comunque Di progettino Che anticiperemo Nell'appetizer Che probabilmente Ci sarà La prossima settimana E che A settembre Sarà pubblicato Online E questo sarà Proprio Uno dei primi Approcci Che sfrutteremo In questa direzione In questo senso Probabilmente Mi avranno capito Solo Simone Fabio Fabio E Daviano Comunque Ne saprete Di più Tra poco Riguardo I soggetti E gli attori Sì Li abbiamo Intravisti All'interno Della prima Gallery Di Adobe Stock E fondamentalmente Li abbiamo Già Intravisti Lì Però Pian pianino Poi sveleremo Le caratteristiche Ora Elena Mi dai Un ottimo Assist Per fare Un ulteriore Paragone Per affermare Quella che reputo Essere l'importanza Di questo esperimento Quando si lavora In ambito Advertising Necessariamente Il nostro compito È quello Di rapportarci Non solo Alla campagna In sé Ma anche Ad esempio In chiave storytelling Ma non solo All'importanza Delle singole identità Da promuovere I singoli prodotti I singoli servizi A secondo ovviamente Di ciò di cui Ci stiamo occupando Fondamentalmente Ci dobbiamo preoccupare Dei protagonisti Della nostra scena Perché un conto È la storia Cioè la campagna E l'advertising Ma un altro Sono i protagonisti Della nostra scena È per questo Che noi All'interno Di questa campagna Come ci hanno chiesto Regista e sceneggiatore Daremo molta importanza A quelli che sono Poi i character poster Ed esiste Una sottotraccia Legata All'uso del colore Che vi faccio notare Essere in evidenza Qui All'interno Della nostra bella mappa Dove Regista e sceneggiatore A un certo punto Quando ci siamo incontrati La prima volta Facendo questa chiacchierata Mi hanno detto Sai Massimo All'interno Di questa lista di film Ogni film Ha un qualcosa da dire Rispetto a ciò Che vorremmo realizzare Ce n'è uno in particolare Che probabilmente stona Si tratta di Hero Un film premiato Di qualche tempo fa Di un genere particolare Adesso mi sfugge il termine Giapponese Per identificare Questo genere Di film Legato All'antica All'antica Cina Perché vi sto segnalando Questa informazione Mi dissero Regista e sceneggiatore Perché in effetti Nella nostra narrazione La farà da padrone La caratterizzazione Dei personaggi Attraverso anche L'associazione di mood Emozioni Che regista e sceneggiatore Sono parecchio Parecchio Tignosi Per cui Faranno molta Molta attenzione Seguiranno Ogni aspetto Del progetto E vorranno vedere Tutte le nostre proposte Fino a raggiungere Quella che sarà Praticamente La promozione Vera e propria Del film Prima ancora Che il film Arrivi poi Online Ok Bene Questa era la sorpresina Che avevo preparato Per voi questa sera Che spero Insomma Vi sia Gradita E che In qualche modo Poi accompagnerà Le prossime puntate Nell'ambito Advertising Quando ho detto Che associeremo Tutto quello Che era il programma Normale dell'advertising Ma In chiave pratica Mi riferivo a questo Proprio perché Riflettendoci su Pensavo In effetti Qualche giorno fa Sì ma Se parliamo sempre Di regole Visual Ripeto Mi basta linkarvi Il webinar precedente Poi siamo sempre lì E invece Rendiamola più interessante Parliamo di qualcosa Di concreto Ed ecco che ho creato Per voi Quello che è un soggetto Molto molto Particolare Con una storia Vera Con Pagine di sceneggiatura Vera Che leggerete Con soggetti veri Con un brand reale Che addirittura Avrà i suoi canali social E Se poi il progetto Funziona come vorrei Magari Ci metteremo Su un bel caso studio Con i nomi Di chiunque abbia partecipato E dato il suo contributo All'interno Elena Quando ho seguito L'azienda Ho davvero sperato In una cosa simile Ora che sono qui Guarda In realtà Ti dico Il progetto Di Di Crime Wonderland In realtà Diciamo alla fine Poi ha prodotto Davvero tanto Io in effetti Non ho mai pensato Di metterlo online Ma tutto sommato Forse potrei anche farlo Anche per avere un paragone In quel caso Per chi di voi Ha seguito i webinar Realizzai davvero Tutto quello Che era l'identità Dell'azienda Addirittura Registrai i domini Dovetti anche mettere Anche I Come si dice I Dovetti montare Il template In wordpress Con vcommerce Solo che poi Praticamente Non ho fatto in tempo Cosa strana Per me Che non riesco a fare una cosa No Però voglio dire Al di là di questo Il resto dell'identità Era tutta creata Abbiamo visto le dinamiche La strategia Ed era un caso Abbastanza ampio Siccome qui In effetti La parte più Fastidiosa Che è quella Di mettere online Il sito Non c'è Perché ci muoveremo Con una landing E con dei social E soprattutto Ci lavoreremo insieme E la cosa Comincia a farsi Un po' più interessante E anche Più creativa Ok Sì Simone Mi piace vincere facile Bene A questo punto Qui si conclude Il webinar Di questa sera Ovviamente Se avete qualche domanda Anche ovviamente Legata all'advertising Non tanto al progetto Sono a vostra disposizione E vi invito A tenere d'occhio Non solo Le newsletter Che invierò Ma soprattutto Il canale Google Plus Community E Slide Share Perché in effetti Molto probabilmente Sarà Diciamo Quello Uno dei principali Supporti Ma non solo Restate in attesa Perché qualcosina Ancora la devo definire Poi Durante Diciamo Il weekend Inizierò A metter su I vari canali Quindi Vi aggiornerò Pian pianino Di questo genere Di approccio Di questo genere Di iniziativa E insieme Cercheremo In qualche modo Di portare avanti Questo progetto Che non vi nascondo Mi emoziona Anche un bel po' Bene Detto questo Se non avete domande Io vi ringrazio Di aver partecipato A questo webinar Spero veramente Che l'idea Di fondo Vi sia piaciuta E vi aspetto Allora numerosi Nel partecipare A questo genere Di iniziativa Antonio Quali sono Questi webinar Già su Youtube Dove hai fatto Questo progetto Ad esempio Allora Antonio Guarda Gli esempi legati A Creamy Wonderland Con tutti i riferimenti Del caso Ve li metterò Su Google Plus Community All'interno Del canale Google Plus Community Così in effetti Troverete la serie Di link Tutti in un unico post Ben raccolti Poi una volta Che metto online Questi riferimenti Comunque vi invierò Una nuova newsletter Della lista Advertising Così saprete Che cosa ho pubblicato D'accordo? Bene Mi fa piacere Insomma Che l'idea Vi sia piaciuta Di nuovo Una buona serata E a presto Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti